buongiorno amici e benvenuti a bar giornale tv oggi abbiamo dall'altra parte dello schermo connesso con le sue mele verdi max la rocca un personaggio che non avrebbe bisogno di essere come dire raccontato perché già tanto si sa di lui ma io lo racconto perché ci piace così max la rocca ha lavorato come bartender bar manager nelle più prestigiose strutture come sai voi gruppe a londra nei vari roccoforte le chateau mandare in oriente nel mondo lui è citato come hospitality expert da numerose riviste internazionali insomma è conosciuto dappertutto a una grande dimensione avuta anche dal guru del bartending gary reagan è stato nominato atteso dai cocktail tra i 10 migliori brand ambassador internazionali e 13 migliori bartenders internazionali viaggia in tutto il mondo ha seguito una delle per anni una delle competizioni più importanti a livello mondiale che è world class quindi è una persona che ne sa di tanto a un certo punto lui ha deciso di max di darti ad altro ma di proseguire questa tua attività di trainer no dei di a io direi definirei di apostolo dell'ospitalità dispensatore di ottime parabole alcoliche e non soltanto ma soprattutto e torno all'argomento di prima quanto sia importante l'ospitalità intanto ciao max buongiorno a tutti grazie stefano è veramente grandioso essere con tutti voi qui in questo grande momento di ripartenza quindi benvenuti a tutti bene max parlando con degli amici gli amici classici clienti medi dei locali quindi l'85 per cento dei clienti medi locali mi si dice spesso che quello che conta non è tanto un cocktail da dieci ma un ospitalità da dieci c'è un mood da dieci è un ambiente a dieci tu hai insistito molto insisti molto nei tuoi video video sul concetto particolare della customer experience che cosa intendi per customer experience e quanto è importante ok stefano come dicevi tu importantissimo il prodotto importantissimo l'arredamento la musica tutto quello che vuoi ma è ancora più importante fare un passo indietro ok e andare a toccare quelli che sono i bisogni primari dell'essere umano che sono dei bisogni molto antichi radicati dentro ognuno di noi e sono dei bisogni che non possiamo non considerare quando andiamo a pianificare quella che è la customer experience dei nostri clienti nel nostro locale ok quindi se tu sei d'accordo farei una carrellata veloce di questi bisogni di cui il primo è il bisogno di sicurezza ok quindi ogni essere umano vuole sentirsi al sicuro tradotto nel nostro linguaggio siamo trasparenti abbastanza nelle nostre offerte nella nostra prezzistica qual è la percezione che diamo di noi per fare in modo che la persona capisca se quello è il locale giusto per sé in quella determinata serata perché magari una serata con la persona amata piuttosto che con gli amici quindi le esigenze sono diverse ok e che cosa si aspetta da te questo quando questa è una cosa che dobbiamo andare subito a pianificare dare in modo che la percezione la comunicazione che utilizziamo faccia capire quali sono le cose che si aspettano da noi e l'esperienza ok abbiamo un personale formato che vada a spiegare in modo corretto quali sono i prodotti e servizi perché questo darà una sensazione di sicurezza queste persone sono competenti mi stanno spiegando cose che prima non sapevo e si vede che posso fidarmi di loro ok la sicurezza viene già dal momento della telefonata ok quindi il tono della voce come come vengono come mi vengono incontro nelle mie esigenze di una prenotazione quindi come vedi si va molto al di là di quello che è il cocktail e oppure la pietanza la seconda il secondo bisogno primario è il bisogno di varietà ok quindi ogni essere umano si abitua molto in fretta si annoia molto in fretta anche di cose che prima diciamo desiderava fortemente quindi quello che vogliamo cercare di fare pianificare anche della nuovi stimoli una novità nelle offerte negli eventi nella comunicazione e il terzo bisogno è quello di importanza ok quindi il cliente vuole sentirsi importante riconosciuto capito ma soprattutto appagato ok e questo è un errore che fanno molti professionisti che si mettono al posto del cliente sono io la star sono io il protagonista ok io molte volte dico nei miei corsi questo aneddoto di un cliente insoddisfatto che esce da un locale e dice volevo solo un gin tonic ma mi è partita una lezione sul processo di di carbonizzazione della tonica che non finisce più ok quindi ancora una volta il bartender si è messo al posto del cliente il quarto bisogno è quello della di connessione di amore quindi ognuno vuole sentirsi amato quindi stiamo parlando di connessioni di legami amicizie relazioni fondamentalmente uno status e sentirsi parte di un gruppo quindi anche qui quando andiamo a pianificare la comunicazione vogliamo che il cliente si senta parte di un gruppo di una famiglia già dalla prima visita e se tu ci fai caso questo senso di connessione appartenenza come risultato finale si va a ricollegare a quello che è il bisogno numero uno cioè quello di sicurezza quindi non stiamo parlando di buongiorno buonasera ti ti do una stretta di mano e che dobbiamo fare il possibile per appagare questi bisogni perché un bisogno di connessione amore talmente forte che se non lo appaghiamo noi il cliente se lo va a prendere altrove ok ti faccio una domanda in queste sono regole sicuramente molto utili grazie di averle dispensate ai nostri spettatori ma in un periodo come quello attuale dove comunque ci sono delle difficoltà tu parlavi di baci abbracci stretta di mano e via dicendo la sicurezza secondo te potrebbe passare anche da altre cose per esempio io mi sentirei più sicuro oggi come oggi se un bartender mi desse il gomito piuttosto che allungarmi la mano cioè questa questa nuova normalità ci ha costretti anche a relazionarci in modo differente rispetto a prima e anche questo può essere sicurezza io voglio voglio sentirmi sicuro quando entro in un ambiente è inutile negarlo siamo ancora in un periodo particolare della della storia dell'umanità intera quindi quindi anche questa cosa anche queste regole come dire di sicurezza potrebbero variare cosa ne pensi assolutamente sì stefano io ho parlato di un mondo perfetto di un mondo pre covid ovviamente da considerare anche questa parte qui e speriamo post covid post covid e noi siamo delle persone creative lavoriamo con i emozioni siamo creatori di esperienze quindi io penso che anche qui c'è una grandissima un grandissimo spazio una grandissima possibilità di manovre di creatività per rendere queste esperienze sicure e allo stesso tempo perché no giocose perché questo ci fa superare quella quell'emozione di paura che molti clienti hanno e quindi perché no venire fuori io dico sempre che da da ogni grossa crisi viene fuori vengono fuori tante opportunità no quindi anche qui giocare con la possibilità di come utilizzare questa distanza il gomito piuttosto che delle mascherine particolari piuttosto che veramente la creatività the sky is the limit come si dice no quindi utilizzare quella che la nostra il nostro processo creativo per i prodotti anche per andare incontro a quelle che sono queste 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 esigenze quindi perché no mettiamo anche questo nel calderone della del bisogno di sicurezza assolutamente ti ringrazio per aver toccato questo punto per gli ultimi due punti se mi se me li concedi sempre su questo bisogno uno è il bisogno di crescita quindi è nella nostra natura il voler crescere evolvere e migliorarsi proprio come come essere umano quindi come si traduce questo nel nostro linguaggio facendo rivivere un'esperienza unica al nostro cliente quindi una cosa nuova qualcosa che non ha mai vissuto prima quindi per lui ha già alzato l'asticella quindi già una crescita fargli provare nuovi sapori parlargli di una storia di un cocktail condividere le differenze tra un whisky torbato whisky non torbato sono tutte cose che lui vede come un avanzamento come una crescita e quindi andiamo in questo modo a soddisfare questo bisogno e l'ultimo bisogno è quello di contributo quindi ogni essere umano vuole contribuire non pensiamo al cliente come un giudice qualcuno che ci punta il dito se sbagliamo qualcosa ma lui vuole vuole che noi riusciamo nella nell'esperienza che abbiamo creato per lui ok quindi come dargli e soddisfare questa questo bisogno di contributo chiedendo la loro opinione chiedendo il loro feedback e questo è un errore che fanno moltissimi operatori vanno avanti per la loro strada dritti come i treni cambiano un menu e si chiedono il perché non va ok max volevo chiederti qual è secondo te il limite tra l'informare il cliente quindi cercare in qualche modo di dargli degli stimoli e il tirarsi indietro cioè mi spiego quello che raccontavi prima sulla questione gin tonic il progetto e del bartender che spiegava come come le pollicine possono rendere meglio il suo drink per un'ora gli faceva una testa tanta ecco voglio dire c'è un limite secondo te oppure bisogna individuare sa anche la sensibilità del bartender individuare la persona giusta con il quale intraprendere questo tipo di dialogo allora io dico sempre che l'interazione iniziale con il cliente non è tanto per essere educati e dire il buongiorno e buonasera è da subito per individuare in che stato mentale quel cliente è quel giorno perché se è un cliente che accetta sempre le mie proposte mi dice sempre di sì fai tu non ti preoccupare e quel giorno ha avuto una giornata storta lavoro e tu continui a proporre stai distruggendo il vostro rapporto che stai facendo veramente tutto il contrario di quello che dovresti fare e la prossima volta anche sta anche se quel cliente è in un buon mood ovviamente non prenderà più i tuoi suggerimenti questo per dirti che si sta assolutamente alla sensibilità del bartender vedere se quella persona in quel giorno ripeto perché per tutta la settimana ti ha sempre detto sì quel giorno ce l'ha un po girate e tu non puoi assolutamente permetterti di rovinare per cui a volte sarebbe utile fare un passo indietro assolutamente sì assolutamente sì e questi sono il scusa ma spesso i clienti non vengono da soli spesso i clienti vengono magari con un'altra persona o con un gruppo di persone con il quale magari è già partito un dialogo all'ingresso del locale che sta vuole proseguire all'interno spesso magari uno si trova certo quindi bisogna avere come dire lì bisogna avere moltiplicare i propri sensi amplificare i propri sensi più di spider man scusami assolutamente no no assolutamente ma io ti faccio l'esempio classico di alcuni hotel che hanno prettamente clientela business se questo cliente ti arriva ti apre il laptop al volo cioè tu non stai lì a farli a elencarli per quanti anni è stato quei negroni nel barile no cioè assolutamente non non gli può interessare questo è quello che per me un po la customer experience cioè fare un passo indietro non stiamo parlando di customer journey quindi di proprio di come creare il passo dopo passo i touch point in cui vuoi che passi il cliente ma stiamo facendo veramente un passo indietro nel paleozoico se vogliamo nelle emozioni paleozoiche che noi abbiamo tantissimi abbiamo tantissime nuove apparecchiature rotavapore tutto quanto ma poi abbiamo emozioni del paleozoico quindi non possiamo non prenderli in considerazione tu pensa soltanto la questione adesso molto trendy delle fermentazioni no di cui tra l'altro var giornale parlerà sul prossimo numero di settembre con un ampio servizio le fermentazioni sono qualcosa che veramente appartiene alla storia ancestrale della nostra umanità e dell'uomo insomma e le nostre nonne anche no quello sì ma addirittura una cosa c'è noi per primi avevamo questo senso e magari quel frutto anche se aveva fermentato un po potevamo e frizzava potremmo comunque mangiarlo questa questa è una cosa molto particolare cambiano tante cose ieri ho assistito a una competition digitale non era la prima per in questo periodo ci sono anche le competition digitali per ovvi motivi e cambiano cambierà secondo te questo modo di fare gare ci sono più competition digitale e al di là di quello ti chiedo visto la tua grandissima esperienza ricordiamo che hai seguito uno dei più grandi concorsi al mondo world class per cinque anni per quanto riguarda l'europa e l'hai seguito a vicino quindi hai una grandissima esperienza a questo punto di vista cambieranno le regole del gioco cambierà il modo di approcciarsi alle cocktail competition cambieranno le cocktail competition che cosa succederà allora questo ovviamente è soltanto una mia previsione e hai fatto bene a menzionare le competizioni digitali perché proprio lì la direzione in cui si andrà anzi molte marche hanno già iniziato alcune con successo alcune senza successo ho sentito anche dei pareri dei bartender molte volte c'è troppa distanza perché in effetti c'è tanta distanza e vengono fatte delle competizioni magari in cui il giudice non ha alcun contatto con il partecipante che mi sembra un'assurdità ma quello che sto vedendo già qualche anno fa molte molte competizioni sono partite con lo streaming e questa è una cosa che mi riempie il cuore di gioia perché molti bartender molti professionisti dell'ospitalità che non hanno la possibilità di andare a vedere queste competizioni avranno finalmente l'opportunità di vedere dietro le quinte e di imparare delle cose che altrimenti non avrebbero imparato quindi sono totalmente a favore alcune delle best practice di competizione a distanza io le prevedo così ossia soltanto con i giudici ed i partecipanti di varie nazioni quindi loro fisicamente saranno lì assieme quindi ci sarà fisicamente l'assaggio del drink e la spiegazione dei sapori la condivisione di energie e molecole come dico sempre e il resto delle persone potranno continuarlo a vedere via streaming perché quello che ti dico che molte di queste competizioni che sono partite così ogni bartender a casa sua i giudici da un'altra parte non avranno vita lunga secondo me però sono totalmente a favore dello streaming beh da giudici di tantissime cocktail competition questo posso dire dal 2002 effettivamente giudica qualcosa è difficile cioè giudici giudichi scusami uno dei cinque aspetti no sostanzialmente la parte visiva e la parte al limite tecnica ma la parte dello speech lo storytelling ma si finisce lì sì però poi alla fine se consideriamo che quello che giudica il cliente è quella cosa che arriva al tavolo piuttosto che al banco e quindi non si pone troppe domande sulla tecnica come ho fatto come l'ho fatto si pone una grande domanda che mi piace o non mi piace ok e questa è la grande questione sì assolutamente anche se ci mettiamo dalla parte della marca stessa io non voglio far vincere una persona e mettere nelle mani la mia marca a livello globale quando magari non ci sono tutti i presupposti veri no quindi sicuramente dal lato della marca c'è un attimo da fare un passo indietro e capire cosa funziona però penso che siamo in una fase camaleontica anche delle competizioni in cui varie marche stanno facendo vari test per cercare di capire e cosa potrebbe funzionare Max è verissimo come si vince una cocktail o come si cerca di vincere una cocktail competition ah ah allora 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 io ti voglio dire da subito una cosa posso fare un passo indietro anche qui sì che poi mi ricollego ovviamente a quello che mi hai chiesto molti bartender cosa fanno? vedono le cocktail competition come una scusciatore al successo ok mentre ci dimentichiamo molte volte quali sono i veri benefici non solo per il bartender che ne fa parte la sua visibilità e credibilità ma anche il modo in cui potrà ispirare il team con cui lavora quindi proprio da fare da team building durante lo sviluppo di questo drink far vedere al resto del team che si possono superare dei limiti ok quindi è veramente importante per il team di lavoro tanti benefici anche per il manager perché se tu pensi al processo di preparazione per una competition dove si studiano nuove tecniche nuovi concetti nuovi prodotti il manager alla fine si ritrova con uno staff più competente vuoi o non vuoi perché ha fatto tutta questa ricerca vinca o non vinca e ovviamente il beneficio anche del proprietario perché si ritrova a raggiungere i suoi obiettivi lavorativi più velocemente avere un team vincente ma il beneficio più grande ovviamente sta a quello che interessa a noi ossia il cliente che si ritroverà dei cocktail innovativi piuttosto che delle pietanze innovative che è un team vincente un'atmosfera armonica quindi io la chiamo una vittoria per tutti alla fine andiamo subito a qualche tip molti bartender mi dicono guarda Max io sono un bartender parlo tutti i giorni con i clienti faccio cocktail tutti i giorni sai che c'è? adesso mi dedico a quel cocktail che nessuno ha mai fatto prima grandissimo errore ragazzi perché la marca vuole replicabilità vuole vendere i suoi prodotti se tu mi fai un cocktail non replicabile ovviamente con i giusti compromessi stai andando già contro a qualsiasi regola di qualsiasi competizione dopodiché vogliamo pianificare in modo produttivo ogni singolo giorno dal momento in cui abbiamo scelto di fare quella competizione fino al momento della performance quindi stare a noi proprio come quando andavamo a scuola come utilizzare le unità di studio quindi dalle regole alla marca al concetto ai tools alla memorizzazione all'esposizione tutte queste cose qui quello che dico di fare specialmente per quelli che sono nuovi a questo mondo è farsi delle liste interminabili perché quello che può andare storto andrà storto se tu non l'hai pianificato quello che riesci a pianificare dal io di solito faccio tre colonne la prima colonna è la ricetta del drink la seconda con i tools e la terza è con la mise en place mi scrivo addirittura che devo fare devo tagliare una pelle d'arancio perché quel giorno lì ragazzi è tutta un'altra storia ok quindi ci dimentichiamo di tutto e di più quello che consiglio di fare quando proviamo i nostri speech e la nostra performance è di tenersi larghi di almeno un minuto o due perché lì quando siamo di fronte ai giudici tutto può succedere una domanda in più si rompe un bicchiere parliamo troppo lentamente ci dimentichiamo di mettere un prodotto quindi vogliamo fare in modo che se il nostro speech e la nostra performance è di dieci minuti di fare in modo che durante le prove almeno sia di otto minuti quello che voglio dire io secondo me è anche interessante sottolineare il fatto che è giusto non solo è giusto ma è doveroso oggi come oggi prepararsi ed arrivare preparato a una cocktail competition nel senso che in tanti anni era di moda di esordire con frasi il tipo sto tremando sono emozionato scusatemi perché era diverso perché erano altri tempi per compiacere i giudici per cercare di in qualche modo di cercare la clemenza a parte i giudici in realtà un grandissimo flair bartender che tutti noi conosciamo un giorno mi fece presente ma scusa ma partecipò a una cocktail competition come giudice e disse a un certo punto ma scusate ragazzi ma perché fate così perché tremate così tanto perché vi stupite di questo perché non sapete cosa fare quando vi cade un bicchiere perché non avete il piano B perché è lui in un certo senso molto categorico molto è però dal mio punto di vista aveva le sue buone ragioni cioè un flair bartender per esempio prova quella routine per tutti i giorni per mesi ok se tu partecipi a una cocktail competition la stessa routine la devi preparare anche tu per mesi ok poi ci sono gli acqui e un altro però secondo me uno deve presentarsi bello sicuro e fiero no? hai capito? e questo flair bartender lo conosciamo tutti era un ragazzo allora oggi un buon più signore con una sua Ferrari Viola che si chiama Bruno Vanzano però a questa competition tra l'altro una competizione internazionale era secondo me una frase corretta e penso che oggi come oggi quando vuoi partecipare ma lo vedo anche l'ho visto negli anni tanti anni fa frequentavo World Class negli anni in cui frequentavo World Class vedevo appunto una preparazione incredibile e quelli che passavano erano veramente delle persone che avevano preparato tutto nel dettaglio tutti avevano preparato quello del dettaglio ma loro avevano anche capito quanto per esempio era importante la fase della gestione delle emozioni durante il concorso assolutamente cioè la gestione dell'emozione è una cosa che ti frega e allora lì è come un calciatore come un attore come tutti coloro che devono fare un mestiere pubblico devi essere allenato anche quello devi prepararti anche a quella parte lì ora il concorso non è mai come lavorare nel proprio locale nel proprio locale insomma è proprio casa tua il concorso è un'altra cosa quindi ti devi esercitare anche a essere di fronte e secondo me devi fare come l'attore del teatro si spengono le luci ok e tu vai vai e reciti il tuo copione e lo reciti nel migliore dei modi e se succede qualcosa improvvisi questo è l'allenamento allenarsi perché a volte ci si sofferma Max solo sulla questione mix gli ingredienti come si combinano sì sulla carta la tua ricetta è bellissima ma poi cosa fai come mi presenti sei uno che è in grado di gestire un banco sei uno in grado di fare effettivamente queste cose ma io penso guarda Stefano io mi accodo a quello che stai dicendo e di questo ne parlo ne parlo moltissimo nei miei corsi come in questo caso Cocktail Competition Ninja in cui parliamo di prepararsi come un atleta vero e proprio parliamo di tecniche di memorizzazione parliamo di come alzare l'energia prima di salire sul palco come far scendere l'adrenalina quando scendi dal palco per dirti quello che tu hai detto del teatro è verissimo e io ti posso aggiungere altre frasi di come iniziano solitamente i nostri colleghi sono contento di essere qui piuttosto che il mio drink è senza dire buongiorno e buonasera che non è quello che fai nel tuo locale quindi io direi guardatevi TED Talk guardatevi quello che volete voi non iniziate mai in modo banale potete iniziare con un oggetto misterioso potete iniziare con una domanda potete iniziare con una citazione famosa che utilizzate all'inizio utilizzate per chiudere alla fine ok quindi andate a vedere un attimo come diceva anche Stefano il mondo del teatro il mondo degli attori oggi abbiamo tantissime risorse anzi parlando di attori io vi consiglierei che è il metodo più semplice per andare a scremare le vostre competizioni a semplificare perché è difficile semplificarlo è registrarvi un video di voi stessi ok quindi registrandovi e riguardando quel video vedrete quante volte utilizzate delle parole riempitive che non servono assolutamente a nulla solo a farvi perdere secondi preziosi quante volte vi mettete le dita nel naso vi toccate i capelli se il vostro messaggio è abbastanza incisivo oppure debole ok quindi registrarvi potete vedere se dei movimenti devono veramente essere lì o potete tagliarli quindi questo vi farà risparmiare del tempo e anche dei rischi di far cadere delle bottiglie cioè veramente con un video con un cellulare oggi puoi andare a fare un fine tuning di quella che è la tua performance Max a proposito di cellulari video eccetera mi viene a mente questo argomento che è molto sentito mai sentito da anni il social network cioè quindi gestire la comunicazione via social no come si gestisce la comunicazione via social non ai tempi ormai più di solo di facebook o di twitter o di instagram ma addirittura ai tempi di tiktok perché vuol dire se noi siamo cresciuti anche in tarda età con facebook ormai diciamo una generazione che va la generazione dai 19 anni in giù è tutta una generazione che tutti i primi tre social che ho elencato li utilizzo molto meno oggi c'è tiktok e tiktok è un'altra cosa cioè si è passati dalla fase instagram dove comandava la foto alla fase tiktok dove comanda spesso e volentieri il video spiritoso divertente umoristico ok ed è talmente una nuova via di comunicazione che è difficilmente anche comprensibile da generazioni tipo la mia cioè nel senso io ho installato tre volte tiktok e dalla frustrazione di non saperlo utilizzare l'ho disinstallato tre volte quindi voglio dire sono anche dei media particolari insomma parlaci la tua esperienza come un bartender oggi come un locale può gestire la parte di comunicazione sui social guarda tu sai bene che ho iniziato nel mondo del web tantissimo tempo fa con listen2dice.com no? quindi il desiderio di contribuire alla community posso dirlo per chi non lo sapesse che è stato uno dei più famosi blog cioè è uno dei primi più famosi e soprattutto al di là del famoso accurati blog sul mondo del bartender assolutamente ricordi Stefano quel primo articolo del 2006 con il drink affumicato quindi stiamo parlando di 14 anni fa comunque ricollegandomi un attimo al discorso social molti colleghi mi dicono ma sai questo non è il nostro lavoro questa cosa dei social non strata tra le mie strategie il nostro lavoro sono i prodotti il nostro lavoro sono i clienti ma che mi metto a fare e io quello che ti posso dire è che non c'è niente di più sbagliato ok perché noi lavoriamo nel business delle esperienze noi lavoriamo nel business delle persone e noi lavoriamo nel business delle comunicazioni con esse quindi noi comunichiamo ogni giorno con i nostri colleghi con il nostro datore di lavoro con con i nostri clienti fornitori quindi per essere professionisti completi quello che dobbiamo fare è imparare a utilizzare al meglio la comunicazione anche sui social ok per rimanere impressi nella mente del cliente e nel cuore del cliente perché sai meglio di me che oggi c'è un super sovraccarico digitale quante email cestini ogni giorno da quanti gruppi di cancelli ogni giorno quindi se abbiamo detto ad un cliente ieri che stasera ci sarà musica la famosa la famosa information overload si l'overload lui esce dal nostro locale già si è dimenticato che le abbiamo detto che domani sera tra 24 ore c'è la musica dal vivo per dirti da come siamo bombardati quindi in questi social media ci aiutano ad essere sempre presenti anche quando il cliente ci lascia o prima che vengono da noi che dici do un paio di tips veloci per i ragazzi come utilizzare i social allora ragazzi prima di tutto hai fatto benissimo a toccare tiktok perché i trends sui social dicono che tiktok social media platform 2020 e 2021 in 2000 quale sarà? dicelo tu non ci arriverai mai linkedin perché linkedin dietro le quinte sta preparando la guerra a tutti quanti non so se hai visto sono già partite le live su linkedin per alcuni profili che questo è una cosa incredibile perché tutti i brand stanno lì tutti i potenziali di lavori sono lì e dobbiamo essere lì anche noi assolutamente non è soltanto quella cosa legata o almeno solo quella cosa legata alla professione al lavoro mi chiedo per esempio linkedin è qualcosa secondo te sfruttabile anche da chi da qual è il target d'età chi ti frequenterà questa cosa immagino sicuramente non studenti persone in età scolare o si va dai laureati in poi giusto sì la fascia d'età rimane la stessa e anche diciamo l'ambito ossia ambito professionale qui non stiamo parlando di foto di gatti e in quant'altro rimaniamo nell'ambito professionale ma molti bartender sono vedono un po' linkedin come il social giacca e cravatta mentre se andiamo un attimo a studiarcelo bene l'algoritmo di linkedin come funziona i commenti le risposte i like è identico a tutti quanti gli altri ok cioè fa parte di tutta quella famiglia che si chiamano social media per un motivo cioè per socializzare quindi anche lì è importante rispondere ai commenti e quant'altro ritornando ai tips importantissimo utilizzare una bella immagine di profilo in cui si vede chiaramente il tuo volto ok non te in lontananza piuttosto che un bicchiere perché se io sto cercando Mario Rossi voglio trovare Mario Rossi se ci sono 200 Mario Rossi e io non capisco tu chi sei ci metto troppo tempo lascio perdere tu ti perdi un'opportunità di lavoro ok quindi foto di primo piano e siccome noi ragioniamo in immagini cerchiamo di utilizzare la stessa foto per tutti i profili perché ovviamente se ti incontro su linkedin voglio vedere come lavori un po' più graficamente su Instagram vado a riconoscerti subito se utilizzi la stessa foto di profilo invece di star a fare una miriade di ricerche prima di arrivare a te un'altra cosa molto importante è cercare di evitare quei nomignoli da chat anni 90 ok quindi bartender superman 45 piuttosto che capocetto rosso 49 ancora una volta se ti chiami Mario Rossi voglio trovare Mario Rossi magari il tuo username non è disponibile utilizziamo dei punti degli underscore ma cerchiamo di rimanere allineati a quella che è la nostra identità quando parlavamo prima della customer experience vogliamo fare in modo che per sempre per quel bisogno di sicurezza di far capire cosa i clienti si possono aspettare dall'altra parte ancora prima che vengono da noi e in questo la biografia dei social ci può aiutare tantissimo quindi possiamo utilizzare un piccolo testo in cui spiega l'atmosfera che andrai a vivere nel locale possiamo scrivere magari il nome del nostro team quindi andiamo ad accorciare le distanze tra noi e il cliente quando il cliente verrà saprà già chiedere di Max ok quindi andiamo a farlo sentire più familiare possibile quanto prima oppure l'utilizzo di promozioni o orari di particolari promozioni quindi io dico sempre che la biografia non è un tatuaggio si può cambiare tutte le volte che vogliamo e dobbiamo farlo è importantissimo anche il testo quindi quello che facevamo prima nella customer experience dobbiamo farlo anche nel testo dei nostri post io vi suggerisco tre pilastri e se riuscite a coprirli tutti e tre benvenga altrimenti almeno uno e i pilastri sono questi l'esperienza che volete far vivere il prodotto o l'insieme dei prodotti o i vostri cavalli di battaglia e l'emozione con cui tu vuoi che lasciano il tuo locale o con cui tu vuoi che lasciano il tuo post quindi esperienza prodotto ed emozione ed essere costante se decidi di postare tutti i giorni farlo tutti i giorni o una volta al mese o una volta a settimana se decidi per esempio che sia lunedì farlo ogni lunedì così le persone si cominciano ad abituare e sanno che quel lunedì verrà fuori del materiale mi raccomando di valore bene Max progetti per il futuro so che sai tutto quello che in pratica avete visto oggi in qualche modo spiegato ovviamente in modo più strutturato in una forma diciamo più una forma più stile lezione insomma lo troverete anche in un nuovo contenitore che hai creato giusto? assolutamente sì tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi sono tre contenitori in particolare il primo si chiama e quindi stiamo parlando di corsi online il primo si chiama ospitalità vincente dove andiamo a coprire tutti i singoli step dal momento in cui il cliente entra fino a quando va via andiamo a parlare di menu engineering andiamo a parlare di storytelling di come motivare lo staff e di come ho portato uno degli ultimi progetti in cui ho lavorato come bar supervisor a Barcellona ad essere tra i migliori 50 al mondo in soli 365 l'ola l'ola boutique bar con Giuseppe Santamaria che sarà assolutamente grande Giuseppe il secondo contenitore si chiama cocktail competition ninja come ti dicevo prima come pianificare in modo efficiente la tua competizione come esplodere faremo proprio dei veri e propri esercizi su come esplodere un concetto la tua creatività ma soprattutto quella cosa che hai toccato prima come approcciarla senza ansia e l'ultimo pilastro si chiama sei tu il tuo brand che è un videocorso pratico che puoi seguire mi rendo conto che tutti hanno iniziato di nuovo a lavorare tutti questi corsi puoi seguirli con i tuoi tempi da cellulare da tablet da pc da mac quello che vuoi tu senza orari pressabiliti non sono live e la cosa importante che ho voluto fare una cosa che mi mancava in molti corsi è un supporto strepitoso cioè io sarò lì live per te con dei zoom con delle stanze facebook mano a mano che vai avanti ogni piccola difficoltà sarò lì perché sai bene meglio di me compri un corso e rimani lasciato a te stesso ogni volta che hai una difficoltà non sai più dove andare io se tu sei d'accordo vorrei lasciare ai visitatori di oggi si ricordiamo che tutti i dati su questo su questo corso eccetera li troverete li trovate qui nell'articolo che è a corredo di questo nostro video per il quale caro Max noi ti ringraziamo ti ringraziamo per il tuo tempo per la tua disponibilità a nome di Bar Giornale TV e di tutto il nostro gruppo ti salutiamo e andiamo a questo punto a prepararci un buon drink insieme che ne dici assolutamente sì grazie a te Stefano grazie a Bar Giornale e a tutte le persone che ci hanno seguito grazie grazie a te Stefano